Musica Amici di Metal in Italy siamo qui al Metropolis Live Club Piedimonte San Germano, provincia di Frosinone questa sera dalla provincia di Frosinone arriviamo in Brasile perché qui siamo con le ragazze del gruppo Nervosa dal Brasile Prendiamo questa intervista con Prika, il membro fondamentale della band cosa pensi di questa notte, di questo club così piccolo ma molto pieno di persone? Mi piace l'esperienza quando spiego in questa regione e mi piace l'Italia, sono suspecita di dire questo perché sono un po' italiana, quindi ho un sit-and-chip Perché ho un sit-and-chip in Italia i miei amici sono qui, quindi mi piace l'Italia quindi mi piace l'Italia, quindi sono molto felice di essere qui e perché Mia è anche l'Italia quindi c'è un grande significato per Nervosa in Italia in molti mani Ok Introducivi a tutti i ascoltatori e ascoltatori di Metal in Italy Sono Elena Cotino, il guitarista Sono Michela Maidonova, il drummer Ok, aspettate Sono Mia Winterweller, di Italia Sì, è italiano In qualche settimana Arrivano molti spiegiande, ora le ragazze sono tutte da Europa e cosa pensi di questa notte e di questo club? Hai giocato in grandi festivalli e anche in grandi stagioni? Sì, due festivalli e piccoli club hanno loro belle belle. Ovviamente nei grandi festivalli hai le stagioni, hai il crowd, ma sei un po' più vicino con i fanci. In questi stagioni e in questi stagioni hai l'opportunità di essere in contatto con il pubblico e il crowd. E anche la possibilità di incontrare e incontrare i fanci. Oh sì, è davvero bello essere così vicino con le persone. È il mio primo anno in Italia in generale, quindi sono davvero impressionante. È molto buona impressione. E io vorrei piacere in altri giri qui, incontrare le persone e chiedere. Credo che sia molto bello. Com'è suonare con un gruppo come Le Nervosa e soprattutto in un gruppo di nazioni diverse dalla tua? Beh, è stata per me la prima volta suonare con tutte ragazze perché ho sempre suonato sempre solo con uomini. E devo dire sempre tutti uomini da quando ho iniziato. È un'esperienza sempre positiva comunque perché tra ragazze ci si capisce meglio. C'è una chimica speciale? Eh sì, è tutta una cosa completamente diversa. È proprio anche un altro tipo di modo di vivere anche on the road. Ci si capisce. È più bello secondo me. È uno stesso tipo di vita in generale. È pure le mie? Uomo Suniler. Ci si capisce? È uno gap CLSCIO! happen again but if it happen it happen I don't want to play with anybody that is unhappy we are adults we are able to understand that but I love to play with these girls I really want that they stay of course but as I say the things change and every person has like different wishes for their life and we have to respect that it's something normal but I'm super happy with the current lineup okay she's super happy so you are happy too? the future of the band what are the plans for the future new album tours? yes we have a new album coming in September so this is news thank you but stay tuned because we release some singles and a lot of news coming we have a lot of big festivals in summer in all Europe and we have plans to tour in the second half of the year still anything that I can announce yet but yes Nervosa will never stop and we have the 70,000 tons of metal that is the biggest cruise metal cruise in US confirmed yes this is a dream come true I will play there for the second time and it's super me too yes 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 a lot of plans okay thanks a lot to the girls grazie obrigado grazie mille we can't wait to hear the new album so we stay tuned okay I hope you enjoy Metal in India we can't wait to hear the new we can't wait to hear the new album we can't wait to hear the new 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 album we can't wait to hear the new we can't wait to hear the new album we can't wait to hear the new we can't wait to hear the new Grazie a tutti.